Nuovo appuntamento con la Revi di Rampage, io sono Stefano Logocci di AW Italian Podcast, anche questa settimana ho guardato il prodotto e mi sono fatto un'idea di come sono andate le cose, quindi sono qua per parlarvene. Allora, dobbiamo parlare del fatto che siamo a un passo da Final Battle, Final Battle che quando vedrete questo video probabilmente avrete già visto, io invece lo faccio prima di Final Battle, quindi non ho idea assolutamente di nulla di come siano andate le cose. Non mi lascerò andare a pronostici che potete comunque ritrovare, non mi lascerò andare invece a una review, ovviamente perché non l'ho visto, anche perché se i pronostici li trovate sul nostro canale YouTube, ma anche la review la troverete a partire da questa sera alle 21.30 sul nostro canale YouTube in diretta. Quindi un sacco di cose ci sono, un sacco di cose ci saranno riguardo Final Battle, io oggi mi concentro solo ed esclusivamente su quello che è il prodottino Rampage. Una cosa vi chiedo però, se volete partecipare un po' di più alla nostra community potete andare in descrizione e trovate il link al nostro gruppo Telegram, chiacchieriamo giornalmente di cose che riguardano le Orelite, ci stiamo insomma trovando bene, parliamo, siamo più di 230 persone che insomma stanno lì e stanno bene, e sono felici di stare lì e di stare bene e di parlare di Orelite. Poi, logicamente avete tutte le opzioni del caso, mi raccomando, non vi costa nulla lasciare un like, è davvero importante per noi anche un dislike se non vi è piaciuto quello che devo dire, se non vi piace il format, quello che è. Però lasciate una reazione, molto importante per il canale, per crescere, ovviamente anche un commento, soprattutto riguardo le cose che sono successe, ma anche a suggerimenti su quello che potremmo fare, beh chiaramente io leggo tutto, non sempre rispondo a tutti, ma sicuramente leggo tutto, quindi conosco tutte le vostre sensazioni e come vedete alcuni dei video che faccio, la maggior parte, devo dire la verità, prendo gli argomenti dal gruppo Telegram perché è quello dove siamo un po' più caldi, un po' più vicini anche, dove c'è uno scambio, dove magari ho modo già di iniziare un ragionamento, però tante volte è capitato anche da qui, dai video di YouTube, dai commenti su YouTube. Chiaramente è interessante per me andare a leggere tutto. Ma passiamo all'azione in ring perché John Moxley ha battuto conosco e Takesh, si erano già incontrati e avevano già fatto un buon match e ancora una volta hanno fatto un buon match. La pecca ovviamente, il sanguinamento di John Moxley immotivato dopo un semplice big boot alla faccia, non c'era bisogno di farsi un blade job, l'ennesimo blade job della storia di John Moxley, inoltre, onesti. Si è fatto un po' vedere quando si strappava il polsino dove dentro c'era la lametta e chiaramente io in quel momento ho intuito che lui sarebbe andato a farsi sanguinare. Ora, non dico che sono problemi di regia, io alla fine tutti questi problemi di regia non li trovo, ogni tanto ce n'è qualcuno però non sono così continuativi, come molte persone dicono, dove insomma cercare di andare a rovinare, non è che si rovina tutto, è semplicemente che ogni tanto c'è qualche problema grave. Ecco, quando ci sono, sono gravi, questo è vero, però anche tutte le settimane abbiamo grossissimi problemi di regia. In questo caso però, insomma, John Moxley sai che più o meno si comporterà in un certo modo stacca sull'altro, no? Niente, vabbè, ma questi sono piccoli dettagli. Match molto bello, molto interessante, come sempre John Moxley lascia un sacco di spazio agli atleti contro cui va, in questo caso con Takeshita, diciamo, è facile, perché Takeshita è un fenomeno e quindi ce l'ha fatta tranquillamente. Il punto è che quando John Moxley va a creare queste situazioni, ovviamente la gente non sempre è dalla sua parte, infatti c'era il pubblico molto molto vicino a Takeshita in questo match o chiaramente dall'altra parte Moxley ha cominciato a comportarsi in modo più eilish. È veramente un genio in questo business, è bravissimo, va a pescare tutto quello che gli serve. Mi è piaciuto, mi è piaciuto molto, poi il match è andato come doveva, ha vinto John Moxley, però attenzione perché c'è Don Callis che sta guardando Takeshita da lontano e qualcuno al commento ha assunto anche ma se invece stesse guardando Moxley? Chi lo sa, nel frattempo noi cominciamo a vedere un Takeshita osservato non solo da noi ma anche da Don Callis. Prendiamo quello come buono? Bene, potrebbe essere una svolta epocale. Vedremo, sono molto curioso sicuramente agganciare qualcuno che possa, mentre Takeshita migliora ancora su inglese, parlare per lui. Bene, chiaramente Don Callis è il numero uno nella lista, dato che Dan Lambert è andato fuori dai giochi. Se no, quello era il numero uno nella lista, sicuramente. Mi manca tanto Dan Lambert, io ve lo dico. Continui invece la costruzione di Will Hobbs attraverso queste vignette che stanno in realtà piacendo molto al pubblico. Io non ho un grandissimo giudizio positivo o negativo, sono solo contento che questa volta questo tipo di format stia continuando ed effettivamente sta andando avanti. È un po' ripetitivo, diciamoci la verità, poi in fondo quando si deve parlare di una vita vissuta in grande difficoltà, con tutti i problemi e quant'altro, diventa chiaramente quasi per forza ripetitivo. Ma sta riuscendo bene, il pubblico reagisce bene. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere solo contenti di vedere queste reazioni e la contentezza del pubblico e noi andare avanti se ci piace. Io per esempio sono molto curioso di vedere quello che può fare Hobbs. Sul ring non mi dispiace affatto, quindi sono anche contento. Un altro personaggio che sta magheggiando in qualche modo, nella sua natura, e per questo lo adoriamo, è Stockley Hathaway, che vuole vendetta sua. Lui dice, quella volta in cui si è incontrato con Lee Moriarty, l'arbitro ha detto che il piede di Hook era sotto la corda fuori dal ring e questo implica che Hook abbia in qualche modo, come fatto, un rope break, no? È equivalente al rope break. Cosa che invece viene sostenuta da Hathaway, non è vero. Il piede non era lì sotto e l'arbitro non doveva fermare la sottomissione. Questo cosa significa? Significa che si è creata una situazione in cui Hathaway vuole la testa di Hook, il quale ha fatto un anno dal suo debutto, proprio in questi giorni, e quindi bisogna cominciare a costruirci qualcosa. Speriamo, perché ha tirato fuori tante qualità molto buone dal punto di vista atletico e tecnico, adesso però bisogna costruirli in modo un pochino più serio. Io non amo questo tipo di costruzioni che stanno facendo come quella di Hook. E anche se mi rendo conto che lui ha tante potenzialità, sono comunque molto indietro sul giudizio. Mi dispiace che ci sia gente che dica, ah ma fa schifo, cioè, che una roba lì mi dà un fastidio. Perché non fa schifo? Anzi. C'è gente che ha molta più esperienza di lui e sul ring fa cagare. Lui è molto bravo, ha i posizionamenti, ha la tecnica, fai i suplex, fa le sottomissioni, ha un buono striking. C'è dentro veramente tanta tanta roba molto positiva, quindi non fa schifo. Gestito di merda? Sì, gestito di merda. Cioè, questo non ci piove. Mi dispiace ma in un anno avrò fatto boh 15 match. Cosa vuol dire? Cosa mi rappresenta? Sono più o meno un match ogni tre settimane. Come fa uno a crescere? In Giappone fanno, in Messico fanno due, tre match a settimana. Quello è un modo per crescere. Cioè, ci sono dei ragazzi che si fanno boh 120 match in un anno, fanno i primi due, tre anni così. Quindi, quando hanno ormai 500 match sulle spalle, o 400 match sulle spalle, dici, come va? Siamo pronti a farti fare qualcosa di più? Probabilmente sì. Ecco perché poi mediamente sono più bravi messicani nel loro paese e giapponesi nel loro paese. che poi tanto quando arrivano negli Stati Uniti, negli Stati Uniti vengono presi come macchiette, quindi nessuno li usa veramente bene, però. Out of the way, però, andando via da questo segmento contro hook, diciamo così, fa intuire che ha ancora dei soldi di MJF da usare. What does that mean? Eh, non lo so. Non lo so. Non lo so. Penso, vado a immaginare che sia per rilanciare un po' la faida Starks contro qualcuno del Firm. Magari vedremo Starks e Jungle Boy insieme contro il Firm. Magari il Firm sono tanti, quindi anche mandarci uno solo contro, magari due. Vedremo, perché comunque di possibilità ce ne sono tanti. Sono curioso. Hikaru Shida invece batte De Banni per il titolo Regina di Wave. Regina di Wave è un titolo della Wave che ha una piccolissima promotion in Giappone. Non pensate che sia una cosa gigante. Shida va costantemente in Wave da molti anni, lotta, adesso ha il titolo, lo sta portando ovviamente come bandiera di quella federazione, ma anche utilizzando sempre il fatto di essere un'ambasciatrice della All Elite nel mondo, soprattutto quello giapponese. E quindi c'è un doppio favore che si fa. Ecco, Wave, peraltro, è una federazione che, seppur piccola, qualcosina riesce a tirar fuori, magari qualche atleta brava riesce a tirarla fuori, non pensate che essere campionessa e regina di Wave sia un titolo importante in Giappone. No. Però, ce l'ha, è perché non metterlo in palio contro De Banni. Inoltre, abbiamo visto uscire Jimmy Hater, la quale ha detto chiaramente la settimana scorsa da Dynamite che chi avesse vinto questo match sarebbe stata anche la prima che l'avrebbe sfidato in quanto Fighting Champion. Ora, io lo so che molti di voi romperanno i coglioni con il fatto, però Fighting Champion vuol dire che deve fare molti match titolati. Sì, sì, però, se la qualità che mi viene fuori da una Fighting Champion è alta, se le sfide vengono fatte non in Open Challenge, come aveva introdotto Cody con il TNT, ma vengono fatte magari scegliendo in modo concreto, per una ragione più stupida di un'altra, ci mancareva questa qui, era una ragione stupida, no? La regina di Wave si batterà contro la campionessa All Elite. Va bene. Niente unificazioni, niente titoli in palio della Wave, solo quello della All Elite. Chiaro che io, dov'è che sono reticente? Nel fatto di mandare i Karushida contro Jimmy Hater adesso, così si poteva costruire bene, fare una bella fight, magari mandarla in pay-per-view, però non togliamoci dalla testa il fatto che i Karushida comunque è lì adesso parcheggiata, perché non può prendersi ancora titoli e onoreficenze e quant'altro. Non è escluso che se dovessero rifare ancora una volta il torneo Owen Hart, non ci sbattano dentro anche i Karushida, che l'altra volta non c'era, e che Karushida non lo vada a vincere. Magari quel tipo di riconoscimento molto limitato glielo danno, però da lì a dire che i Karushida presto andrà per il titolo della All Elite, no, purtroppo no, dobbiamo farcene una ragione, togliere da quella situazione lì, e quindi pensare che questo è stato un match che abbiamo visto, tra l'altro non è stato neanche male in realtà, quindi con l'involgimento anche di Penelope Ford e quant'altro, non è andata male, non è andata male. Quindi avremo anche un match titolato probabilmente tra i Karushida e la nostra carissima Jimmy Hater, mentre invece questa settimana avremo Rubis Oa contro Taekwondo, da quello che mi ricordo, dalla grafica di Winter is Coming. Ultimo match c'era un personaggio che doveva essere introdotto nuovo da parte di Kip Sabian, e Kip Sabian introduce Trent Seven, il quale, lasciato a casa dalla WWE qualche mese fa, pare abbia trovato a casa, non è ancora uscita nel momento in cui faccio la registrazione alla grafica ufficiale, ma lui è entrato con la giacca, con l'immagine della All Elite, facendo vedere, insomma, indicando l'immagine della All Elite e sotto il proprio nome, quindi teoricamente dobbiamo pensare che lui sia sotto contratto con la federazione di Jacksonville. Da qui in poi lui fa il suo match, un buon match, come sempre Trent Seven è una sicurezza da questo punto di vista, Cassidy, bravissimo lo sappiamo, viene fuori un buon match, chiaramente non è questo il match che va a togliere il titolo dell'Atlantica, Orange Cassidy, perché se ci deve essere una faida, probabilmente quella faida è più con Kip Sabian, e allora vedremo magari quella andare in porto, vediamo. In aiuto di tutti questi sono arrivati i Butcher and Blade e quant'altro, per cui anche i Best Friend hanno cominciato, quella che potrebbe essere una micro rivalità, che appunto si sviluppa a Dynamite Rampage, e quindi Butcher and Blade contro i Best Friend, vedremo che cosa salterà fuori. Chiaramente, evidentemente, l'apporto di Trent Seven è stato positivo per quanto riguarda il match, mi auguro che insomma, abbia modo di farsi vedere se effettivamente fa parte dell'Orealite, e magari appunto di traghettare anche alcuni dei ragazzi che si sono allenati con lui, magari sono dei prospetti interessanti dall'Inghilterra, portarli in Orealite, che non guasterebbe comunque, anche soltanto per fare cose, diciamo, minime, no? Magari delle faide, non c'è sempre bisogno di mettere sotto contratto persone, per chissà quanto tempo, e infatti, giusto per citare una cosa, Huck è un lottatore che tendenzialmente è tecnico, gli inglesi tendenzialmente sono tecnici, ecco, una bella faida, ma faida questa volta, tra Huck e eventualmente un Trent Seven, o un allievo di Trent Seven, ma perché no? Vedremo, vedremo cosa salta fuori, sono molto 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 curioso, indipendentemente poi da, da come si realizzerà il tutto, sono convinto che ci saranno cose interessanti. Vi abbandono ora, non voglio sforare i 15 minuti con la review di Rampage, vi ringrazio, vi consiglio anche di abbonarvi al nostro canale, ci sono tantissimi contenuti extra, tanti contenuti che anch'io sto producendo in più, proprio per gli abbonati, alcune cose in totale esclusiva, alcune cose che verranno pubblicate prima, rispetto a il canale normale. Ricordate però sempre che questo canale, rimarrà per la maggior parte dei propri contenuti, gratuito e disponibile a tutti, perché cerchiamo veramente di esprimerci quanto più possibile, e di allargare il nostro bacino di utenza. Grazie davvero di cuore per aver ascoltato anche questo video, io sono Stefano, la voce di AW Italian Podcast, e con la review di Rampage, ci vediamo la settimana prossima. Grazie mille, alla prossima. Grazie a tutti.